Il capitale spirituale dei giovani, abbraccio voi, giovani di Sarajevo. Così Giovanni Paolo II a Montorso di Loreto nel 1995 in occasione di Europe, la grande kermesse dei giovani arrivati da tutto il continente. Papa Uitiwa era molto affezionato alla Madonna Nera che richiamava quella polacca di Cestocova e tante volte vi tornò. Avevi in mente di creare a Loreto un polo pastorale internazionale di spiritualità giovanile. Per questo nacque nel 2000 il centro Giovanni Paolo II. Loreto aveva preparato questo momento, trasmesso in mondo visione, con grande cura. Il vicario di Loreto, allora Don Nicola Rivera, era stato inviato negli Stati Uniti per la giornata mondiale della gioventù di Denver nel 1993 per riproporre, come voleva il Papa, un evento popolare giovanile nel centro Italia. Non poteva che essere a Loreto e venne così scelta la spianata di Montorso. Ne uscì una serata storica con quasi 500.000 presenze assipate lungo la spianata che dal colle di Loreto scende verso Scossicci. L'ultima volta fu nel 2004, pochi mesi prima di morire. Così il Papa si era rivolto ancora ai presenti. Ancora una volta, peregrina all'oretto, in questo eroso che ci richiama l'affettuosa presenza della beata Vergine Maria. Sono rietto di celebrare l'Eucalistia con voi, fratelli e sorelle di questa regione, delle varie diocesi dell'Italia e della Spagna e con tanti giovani e adulti dell'azione cattolica. Era il pellegrinaggio dei giovani di azione cattolica. Erano guidati da Paola Bignardi. L'ultima uscita pubblica di Papa Uitiwa, voluta con la forza della volontà, prima di spegnersi nella primavera successiva.